Da poco, allora è venuto una sera a fare la serata a GKS. Io ho avuto risforzi di movimento per scena, perché comunque... Io non so se... Rosè, ma ha fatto delle risposte... Where are you going now? C'è anche delle carine tipo con i bambini. C'è tipo il padre col bambino che sta passeggiando, e poi tipo inciampa, siccome lo sanno cadere, inciampa sopra e si... sul bambino proprio. Tipo con questo bagaglino piccolino, questo passeggino piccolo, si cade addosso e lo schiaccia, perché tutti si perdono con lui, quindi ti mette su da via. Oppure si dimentica il bambino dentro... ...